Buonasera a tutti, benvenuti la terza giornata di ritorno di campionati in Serie A femminile. Iniziamo a presentare la squadra ospite, Envon Pizzani. Nel numero 12. alle nazioni tutti i miei vicini prendiamo la parola di San Filippo un uomo di cazzo un uomo di Ecos un uomo di Nascaranti un uomo di 17 un uomo di 19 un uomo di 19 un uomo di 21 un uomo di Tini e la macchina con una feda Tagliare Giurello uno uomo di 19 uno uomo di 14 uno uomo di 19 una uomo di 15 uno uomo di 65 e la macchina un uomo di 65 un uomo di 90 e la macchina uno uomo di 16 e la macchina una uomo di 13 e la macchina allora d'altro in giro in giro Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti.